Allora, ciao sono Giada, vengo dall'Italia, in Basilicata, sono nel centro Medteam in Serbia, mi trovo benissimo qui, io facevo uso di metadone, eroina, crack, cocaina, usavo anche l'alcol, però in minima dose, perché non è stato dei miei gusti, io ero proprio casi estremi, ero arrivata a 47 kg, non dico che mi hanno portato in forza, perché è stata una mia decisione, se no mio padre non mi avrebbe mai portato, ho preso questa decisione perché ho due bambini e ho preso coscienza dei miei errori, perché comunque ero arrivata a rubare in casa, a fare le solite stronzate, a rubare la macchina, a rubare i soldi, lo sappiamo le cose che facciamo quando facciamo uso di queste sostanze, e quindi ho preso coscienza, mio padre mi ha accompagnato in questa struttura, che è una struttura che a parte che la gente è di cuore, ci accolgono veramente come se fossero di famiglia, veramente siamo stati accolti con un abbraccio da tutti, sia dalle ragazze delle pulizie, le camere sono veramente lussuose, ma non perché per il lusso, a parte che c'è il lusso nel vero senso della parola, poi c'è palestra, spa, c'è tutto, gli interpreti di tutte le lingue, io mi sono trovata benissimo, non perché sono qui, io sono a fine programma, esco da qui felice di questo programma, se mai un giorno dovesse avere un problema con un familiare mio, io subito lo porterei qui, sicuro, quindi per me è eccellente, volevo dire solo questo. Grazie a tutti.